Tutti i nuovi motori Espace prevedono la modalità Eco e il sistema Stop & Start. È possibile attivare la funzione Eco tramite il contattore sulla console centrale o il menu Multisense. È possibile attivare e disattivare il sistema Stop & Start tramite il pulsante sulla console centrale. Il sistema è inattivo quando la spia del pulsante è accesa.